ecco qua troviamo ciao buongiorno i pulcini di mister giulio giulio massimini oggi è martedì anche loro riprendono gli allenamenti settimanali c'è una leggera pioggia fastidiosa l'aria è molto frizzante si può dire da neve i ragazzi si allenano sono divisi in due gruppi qua c'è un altro gruppo di ragazzo c'è il mister roberto verna salve ragazzi è piove ciao 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 ciao